L'Egitto è il più popoloso paese arabo con i suoi 80 milioni di abitanti, concentrati lungo il corso del Nilo e intorno al canale di Suez. L'Egitto è bagnato dal mar Mediterraneo, dal Mar Rosso, confina con Israele, col Sudan e con la Libia. Il territorio dell'Egitto è costituito per il 95% da deserto, con un clima desertico, eccezione fatta per la zona mediterranea, dove è temperato. È attraversato dal Nilo con la sua valle e il delta, rappresentano la sola parte verde del paese. Si può suddividere in quattro regioni naturali, valle del Nilo e regioni del delta, deserto orientale e deserto occidentale, penisola del Sinai. Il Nilo è il più importante fiume dell'Egitto, è uno dei più lunghi del mondo, nasce nei grandi laghi africani e nel suo ultimo tratto attraversa da sud verso nord la parte orientale dell'Egitto. La valle del Nilo si estende nel territorio egiziano per circa 1500 chilometri, dal confine col Sudan fino al Mediterraneo. Entra nel territorio egiziano poco a nord della città di Guadi Alfa, formando il lago Nasser, questo dal 1970, anno di costruzione della diga di Aswan. Dopo la diga, il fiume riassume il soccorso naturale, fino al Cairo. Poco a nord del Cairo inizia il delta del Nilo, dove si biforca in due rami principali, il ramo di Rosetta e il ramo di Domietta. La diga di Aswan, chiamata anche Alta Diga, è la più alta e moderna diga del Nilo. La costruzione della diga iniziò nel 1960 e terminò il 21 luglio 1970. Questa costruzione spaventò gli archeologi, perché il bacino che si sarebbe formato rischiava di sommergere siti archeologi di Abu Simbel e alti templi. L'UNESCO, per risolvere il problema, fece spostare questi siti in locazioni più sicure e ne regalò alcuni alle città che contribuirono alle opere di salvataggio, come Torino, Madrid, New York e Berlino. La diga è lunga, 3600 metri, larga 980 alla base e alla sommità 40. Per un'altezza di 111 metri, il volume è di 43 milioni di metri cubi. Le aperture possono far uscire fino a 11.000 metri cubi al secondo di acqua. Giuseppe Ungaretti L'Egitto è anche il paese natale del grande poeta ermetico Giuseppe Ungaretti. Giuseppe Ungaretti nasce l'8 febbraio 1888 ad Alessandra d'Egitto, da genitori lucchesi che si erano trasferiti lì per lavoro. Durante i suoi studi in Svizzera, Ungaretti matura le sue prime esperienze letterale, in particolare quella francese e si ispira anche a quella italiana da Leopardi, Carducci, Pascoli e D'Annunzio. Nel 1912 Ungaretti lascia l'Egitto e si reca in primo momento a Firenze e poi a Parigi, dove inizia a avere rapporti con l'ambiente furturista. Nel 1914 torna in Italia e partecipa alle manifestazioni in favore della guerra, finendo anche in prigione. Rilasciato, si trasferisce a Milano, conosce Benito Mussolini ed entra dall'Italia nel conflitto. Si arruola come volontario sul fronte del Carseo. Proprio qui scaturisce la sua prima raccolta di versi, il porto sepolto. Dopo la conclusione della guerra, Ungaretti si stabilisce nuovamente a Parigi nel 1920. Sposa Jasmine de Poix nel 1936 si sposta in Brasile per insegnare all'università. Questi anni insegnarono la vita del poeta perché ha perso il suo piccolo figlio Antonietto e cui dedicherà il dolore. Rientra in Italia dopo lo scoppio della Prima Guerra Mondiale e insegna all'Università di Roma e muore nel 1970. Tra le sue opere si ricordano il sentimento del tempo, l'allegria. Nell'allegria c'è anche una poesia dedicata ad Alessandro d'Egitto intitolata Il Silenzio Scoppia la Prima Guerra Mondiale Il 28 giugno 1914 a Sarajevo lo studente serbo Gavrilo Princip uccise con due colpi di pistola l'arciduca Francesco Ferdinando erede al trono asburgico. Un mese dopo l'Austria dichiara guerra alla Serbia. L'attentato a Sarajevo non fu la causa della Prima Guerra Mondiale ma fu il fattore scatenante che fece precipitare gli eventi. Nei giorni successivi Russia, Germania, Francia e Gran Bretagna trasformarono un conflitto locale in guerra mondiale. Il 4 agosto i tedeschi sfondarono il Belgio puntando su Parigi. A questi due fronti si aggiunse quello marino dove Gran Bretagna e Germania combatterono per il predominio sul mare e per garantirsi la possibilità di stabili rifornimenti. di armamenti e dei generi di consumo. A 1915 l'Italia entrò in guerra e il conflitto si estense anche ad altri paesi abbandonando il sistema di alleanze in cui era inserita. L'Italia decise di partecipare alla Grande Guerra a fianco dell'Intesa. Il governo stipulò un trattato concorrato con il re e le alte gerarchie militari con Francia e Gran Bretagna che impegnava l'Italia a entrare in guerra a fianco dell'Intesa. In cambio di ampe concessioni territoriali l'ingresso dell'Italia e delle operazioni marini aprì un altro fronte a sud sul Carso. Al 1917 si verificarono due eventi di grande rilevanza l'entrata in guerra degli Stati Uniti e la rivoluzione socialista in Russia che portò alla caduta definitiva dello zarismo e alla pace repulata con la Germania. In questo quadro prese avvio la massiccia offensiva austro-tedesca per chiudere rapidamente il conflitto prima dell'arrivo delle truppe americane sul continente. Fu lasciata da Indenburg la guerra sotto malina totale contro il blocco navale inglese. Le truppe degli imperi centrali sfondarono il fronte meridionale e l'esercito italiano sbaragliato a Caporetto fu costretto a una disastrosa ritirata ma l'offensiva tedesca si arenò sul fronte occidentale dove gli anglo-francesi riunirono a l'intesa vinsero le ultime resistenze austro-tedesche ponendo così fine alla grande guerra. Nel gennaio 1919 si aprì a Versailles la conferenza di pace. Durissime condizioni di pace furono imposte i vinti sulle rovine degli imperi multinazionali. austro-ungarico e ottomano sorsero nuovi stati sui territori strappati alla Russia e alla Germania rinacque la Polonia l'Italia ottenne il Trentino l'Alto Agide Trieste e l'Istria eccetto fiume Manolla d'Almazia l'Istria l'Istria l'Istria